Questo ragazzo è più coraggioso di te perché sta cercando di catturare un pesce gatto assurdamente grosso solo con le sue mani e aspetta solo di vedere quanto è gigante questo pesce. Anche dopo essere stato morso dal pesce, non si è comunque lasciato scoraggiare, quindi ha deciso di immergersi in questa buca solo per raggiungere il pesce, il che è assolutamente folle. Dopo essere rimasto sott'acqua per circa 20 secondi, è finalmente riuscito a prendere questo mostro e ha iniziato a tirarlo fuori. Ma questo pesce si è rivelato molto più grande di quanto si aspettassero dato che era quasi delle sue dimensioni. È il pesce più grosso che abbia mai preso. Ci riusciresti tu?